Ciao ragazzi, sono Claudio Cirillo, vi devo dire una cosa importantissima, ma per rendere la cosa più eccitante ve lo dico mentre faccio la verticale. Il mio primo album, 3, 6, 5, no non sto dando i numeri, si chiama proprio così, sta per uscire. Praticamente ho scritto una canzone per ogni mese, quindi usciranno in totale 12 simboli, il primo fra qualche settimana, e gli altri usciranno fino a dicembre del prossimo anno. Quindi ragazzi, mi raccomando, state con noi, per fare questo ho avuto l'aiuto di Mensa Parola, che si occupa dell'ufficio stampa, dei videoclip, di un sacco di altre cose, e gli arrangiamenti di Jacopo Mariotti. Ci vediamo che sto morendo, ciao!